Musica Progetto Iron Mind in collaborazione con la Marco Beriolus e la fondazione Oso, fondazione di Vodafone è un progetto che vuole avvicinare allo sport i ragazzi portatori di handicap, i ragazzi con disabilità è un progetto che dice fai sport perché se fai sport senti meglio, lo sport è la spinta in più, la forza in più, la capacità in più di sentirsi bene abbiamo avvicinato 20 ragazzi e gli abbiamo fatto provare in due giorni 7 sport diversi, molti hanno continuato ma un amico in particolare Dennis ha scelto cannottaggio barca Quando remi come ti senti? Potente Potente? E qual è la sensazione più bella? Quando ti senti il vento mentre stai andando a favore di corrente, sei comunque abbastanza veloce Quindi in faccia L'altra invece è quando sei in un equipaggio col quale hai tanta intesa Senti, tu hai perso la vista da piccolo? No, io sono andato così Ah, è andato così Hai già fatto gare? Sì, stato per il 130esimo dell'Armita e sono arrivato terzo su nove Ma grandissimo! In realtà se ne dimentica una, è venuta Varese a fare un'altra gara, una regionale in barca Sì? Ed è arrivato terzo con gli ultimi 100 metri che erano quarti, hanno chiuso gli occhi Eh, terzi! Scusa, chiuso gli occhi di niente Che hai chiuso gli occhi a fare che non ci vedi? Senti, ma come va Dennis? Dennis è un cialtrone E' uno che ha grandissima potenzialità Perché oggettivamente e fisicamente è un ragazzo molto ben notato La prossima gara? Eh, sta domenica Questa domenica? Dove? Confermami tu un scardo lago di Varese Varese? Ah, la gamba! Sì, ma che gara è? Eh, nazionale in teoria Ah, capito i nazionali? Beh, ma lui ci devi mettere il massimo Buon allenamento Grazie Grazie, ciao Dammi questo bacino E dammi questo 5 che è fatto bene Pugnetti Il saluto classico Eh, sì Ciao, grande Dennis Oh, no Questa squadra è Iron Mind